Buongiorno cari amici di Radio Piave, dell'Amico del Popolo, siamo di nuovo alla nostra rassegna stampa per vedere i principali titoli sui giornali che parlano della provincia di Belluno, ma non solo oggi, dobbiamo senz'altro aprire con una notizia che ci riguarda tutti in quanto cittadini europei, vi mostro la prima pagina del Corriere della Sera, non possiamo non dare un po' di evidenza alla notizia che l'Unione Europea ha deciso quali saranno i suoi vertici, le sue figure di governo, le sue principali figure di governo per i prossimi anni e questa volta la scelta è caduta su due donne, ce ne felicitiamo perché anche questo probabilmente servirà a rompere certi tabù e ci aiuterà ad andare nella direzione di un'effettiva parità tra i generi, tra l'uomo e la donna, che è parità che non è assolutamente ancora praticata come dovrebbe. Due donne al vertice dell'Europa, è il titolone quasi a tutta pagina del Corriere della Sera, la tedesca von der Leyen, presidente della commissione, la Garda, la BCE, conte a noi il responsabile della concorrenza. Il sottotitolo dice questo, sì alla linea Merkel, l'Italia perde ruoli di spicco, ma Sassoli verso la guida del Parlamento UE. Passa la linea rossa di Merkel, due donne ai vertici dell'Europa, la tedesca Ursula von der Leyen guiderà la commissione europea, mentre la francese Christine Lagarde sarà la BCE. L'Italia perde ruoli di spicco, ma David Sassoli va verso la guida dell'Europarlamento. Questo è il lancio nelle poche parole di presentazione che ci sono in prima pagina. Un paio di osservazioni su questo, mentre a chi ci segue sui social dell'Amico del Popolo mostriamo anche i volti appunto di queste persone, di Ursula von der Leyen e sotto poi vedete qui della Christine Lagarde. Christine Lagarde la conosciamo già, diciamo anche come italiani, perché l'abbiamo vista mille volte sui giornali in quanto viene dal Fondo Monetario Internazionale, quindi l'Italia aveva avuto anche da confrontarsi con questa istituzione mondiale, mentre ci è sicuramente meno nota la nuova Presidente della Commissione europea che è stata Ministro, è una fedelissima di Angela Merkel ed è stata Ministro del lavoro della cancelliera. La Commissione sapete che è un po' l'organismo di governo, insomma si può fare un paragone con le istituzioni nostre italiane, perché quelle europee sono molto più complesse, ha questa funzione di coordinamento tra le varie istituzioni sostanzialmente. Non ci deve stupire, e poi vi mostro ancora una cosa all'interno e poi torniamo alla provincia di Belluno, non ci deve stupire la puntualizzazione sul fatto che l'Italia perde ruoli di spicco, come abbiamo visto in prima pagina sul Corriere della Sera. Semplicemente perché noi italiani abbiamo votato soprattutto Lega e Lega non è al governo in Europa, non fa parte delle maggioranze che hanno il governo dell'Europa. Quindi come sempre se uno vota un partito di opposizione poi non può lamentarsi che quel partito non raggiunga le leve del potere. Semplicemente siamo montati sul cavallo sbagliato rispetto alla tendenza che c'è in Europa. È come se in provincia di Belluno votassimo PD sperando che poi il nostro rappresentante abbia un ruolo in regione, invece se la regione è a guida Lega è logico che il rappresentante PD non può trovare un posto, è elementare. Va bene, andiamo avanti. Volevo mostrarvi solo questo approfondimento che c'è a pagina 4 e 5 del Corriere della Sera, sempre siamo sul nazionale, di relativo pagina 5 alla Lagarde, Christine Lagarde, vedete ve la mostro in grande adesso. Ecco la qua, Christine Lagarde dal fondo monetario alla BCE, l'ex nuotatrice vegetariana governerà il credito europeo, prende il posto dell'italiano Mario Draghi. Christine Lagarde, francese classe 56, è avvocato di formazione. Dopo la carriera in uno studio internazionale lungo 24 anni, nel 2005 inizia la sua carriera politica a Parigi come ministro del commercio dell'esecutivo guidato da Dominique de Villepin. Dopo una breve parentesi come ministro dell'agricoltura, nel 2007 diventa ministro delle finanze, da quella posizione nel 2011 succede al suo connazionale Dominique Strauss-Kahn, vi ricorderete coinvolto in scandali vergognosi, nella carica di direttore del Fondo Monetario Internazionale. Nel 2016 viene rinominata per un secondo mandato, che quindi al termine e adesso passa alla BCE. Invece Ursula von der Leyen ha un profilo molto diverso, da sempre al fianco di Angela Merkel, aristocratica, madre di sette figli, torna a Bruxelles come papà, 60 anni, nata a Excel, sobborgo di Bruxelles, è ministra della difesa in Germania, ha fatto parte dei governi guidati da Angela Merkel fin dal 2005. Madre di sette figli, proviene da una famiglia aristocratica, quella dei Knop, il marito è erede di una dinastia nobiliare che ha fatto le sue fortune con il commercio della seta. Laureata in medicina, decise di seguire le orme del padre in politica, da ministra della famiglia, nel 2005 si prodigò per gli asili nido e i congedi di paternità, da ministra del lavoro, nel 2009 si batté per le quote rosa nei consigli di amministrazione. Peraltro chiosa il Corriere senza successo. Va bene, allora andiamo a vedere, permettetemi ora la raggiungo, l'edizione locale del Corriere della Sera, cioè la prima pagina del Corriere del Veneto, che vi mostro tra un attimo, eccola qui, eccola qui, allora Corriere del Veneto in prima pagina, se riesco a mostrarvela perché mi sono praticamente bloccato, eccola qui, il titolone di prima pagina è riferito all'autonomia da Movimento 5 Stelle, solo parole, dice la prima pagina del Corriere del Veneto. TAV, autostrade, olimpiadi, opere per 19 miliardi e anche qui chi vuole andare ad approfondire è una cosa che riguarda Belluno, insomma di solito siamo abituati alle sole pagine 10 più o meno per Belluno, questa volta vediamo che con il fatto delle olimpiadi abbiamo anche questo approfondimento in più, la pagina di Belluno comunque oggi è a pagina 13, pensionati over 80 in crisi è povertà e solitudine, così titola il Corriere del Veneto di oggi in apertura, cimitero a Feltre, nuovo ampliamento, danni di vaia riparati dai cantieri, l'annuncio del comune, poi la notizia che abbiamo dato anche ieri sera sull'amico del popolo, sono cose che dispiacciono in ogni modo, litiga con la badante e la coltella al petto, la donna salva, lui ricoverato in psichiatria, follia di un 88enne feltrino, la 50enne polacca soccorsa dai vicini, dice il Corriere del Veneto. A Feltre un tubo rotto, allagata, rianimazione, parliamo dell'ospedale, ricoverati via e a Feltre arriva Innelli, capitano d'emergenza, novità quindi nell'assetto dei carabinieri, i processi, botte all'ex marito e al cognato, condannato a nove mesi ma assoluzione per lo stalking ed è un riassunto pastone di quel che è successo ieri in tribunale, con questo lasciamo il Corriere del Veneto, andiamo a vedere il gazzettino che in prima pagina di Belluno, come vedete parte dal medico pensionato, aspettate che ho perso la pagina, io col gazzettino sono sempre mal ridotto che mi perdo la pagina digitale. Indagato il medico pensionato, il settantenne chiamato a tamponare la carenza di camici bianchi è finito sotto inchiesta per la morte dell'uomo visitato e dimesso quella notte il gettonista gestiva l'intero pronto soccorso con tre infermieri, l'autopsia chiarirà se la tragedia era evitabile. Era logico che si andasse avanti su questa triste vicenda capitata l'altro giorno quando un uomo di Belluno, delle Ronce, della parte più alta montana della provincia del comune di Belluno, era andato in pronto soccorso perché riteneva di avere dei sintomi che potevano annunciare un infarto, lì lo hanno visto, lo hanno rimandato a casa e poi nella notte è morto e adesso è scattata ovviamente l'indagine. C'è un indagato per la morte di Elvis Andon, dice il gazzettino in prima pagina, il 62enne di Pian del Monte è stroncato domenica mattina da un infarto mentre era in casa, un'ora dopo essere stato dimesso dal pronto soccorso. Il medico che quella notte era in servizio al San Martino è stato iscritto nel registro degli indagati dal PM Simone Marcon, che aveva aperto un fascicolo per omicidio colposo. Si tratta di un virgolettato gettonista, li chiamano così questi medici, un pensionato medico settantenne che era stato richiamato in servizio vista l'emergenza di camici bianchi. Siamo in questa situazione purtroppo. Era solo quella notte, come solo ogni notte, l'unico medico di guardia al pronto soccorso che prende le consegne dai tre medici che sono in servizio fino alle 20. Quindi sapete che dopo le 20 il nostro pronto soccorso principale ha un solo medico la notte. Lui è tre infermieri impegnati anche nelle uscite in ambulanza per le emergenze. La Salma di Sandon è all'obitorio di Belluno da domenica. Sabato prossimo il sostituto procuratore conferirà l'incarico per effettuare l'autopsia sul corpo del 62enne all'anatomo patologo Antonello Cirnelli di Portogruaro. Si tratta di accertare le cause della morte e soprattutto si tratta di chiarire se quel decesso poteva essere evitato con delle cure tempestive al pronto soccorso. Si tratta dell'ennesima morte sospetta, dice il gazzettino, avvenuta al pronto soccorso del San Martino sempre di notte, quando l'organico passa da tre medici a uno solo. Forse non è una coincidenza. Feltre, anche qui, perdita d'acqua in reparto, trasferiti i pazienti della rianimazione. Belluno, spray contro il suo ex, paga con nove mesi. Vicende del tribunale di ieri, appunto, dicevamo, niente volo, incubo per venti ragazzi. Una committiva di studenti bellunesi abbandonata a Lione, in Francia, dai prof francesi, accompagnati dai docenti nel viaggio di andata, abbandonati al ritorno. Domenica a Lione sono finiti in un incubo una ventina di studenti del Renier. Volo cancellato, soli, in una città straniera per un giorno, senza sapere che fare. I ragazzi, tra i 17 e i 18 anni del corso linguistico-economico-sociale, erano partiti un mese fa per un'esperienza di alternanza scuola-lavoro a Vichy, che il Renier ha realizzato appoggiandosi al Circolo Cultura e Stampa Bellunese. Un'esperienza unica per i ragazzi, che però si è conclusa nel peggiore dei modi. Forse il peggiore dei modi è un po' esagerato, mi permetto di dire, ma tant'è, questo è il succo della notizia. Insomma, questi ragazzi sono rimasti senza possibilità di, come si dice, di tornare a casa, di tornare a Belluno e questo ha creato ovviamente delle difficoltà che possiamo ben immaginare. Con l'auto in macelleria, l'altro titolo un po' ad effetto, ero confusa i danni alla vetrina della macelleria, Pinali, che è stata completamente distrutta. Belluno, la conducente, tradita dal cambio automatico, a quanto pare. Limana e il Nevegal, mai coinvolti da Belluno. E purtroppo un'altra notizia di vandalismi, la madonnina, la solita madonnina della strada che va, madonnina bianca della strada che sale a Castion, la vecchia strada che sale a Castion, è stata di nuovo imbrattata. Scherza pure con i fanti, ma lascia stare i fanti, i santi. Insomma, qui è stato scritto un po' di corsa, l'articolo forse non corretto abbastanza. Insomma, si parte da questo motto per dire quello che è successo. Salce scavi sulla statale riasfaltata. Automobilisti esasperati per i lavori stradali a salce sulla statale 50 da oltre una decina di giorni. Infatti è in corso il rifacimento del manto stradale. E quando i lavori sembravano terminati e già la prima parte del tratto in questione era stato fresato e riasfaltato, è iniziata un'altra opera da parte di un gestore di telefonia. Sui social impazzano i commenti. Qualcuno si è rivolto perfino al sindaco Jacopo Massaro che ha preso il telefono e ha chiesto l'UMI all'ANAS. L'azienda è dovuta intervenire per le numerose buche e rendere più sicuro il traffico riasfaltando tre chilometri e mezzo di strada. Peccato che poi si dice che fare e disfare è tutto un lavorare, però insomma sono soldi pubblici e non va bene quando si vede che vengono fatti lavori a metà o per niente perché subito dopo vengono poi rovinati da altri successivi lavori. Corriere delle Alpi punta sul lavoro. Il titolone è drammatico. L'occhialeria. Saffilo in crisi a tutta pagina. Trema Longarone. Via Gucci e Dior. I due brand rappresentano il 40% della produzione della fabbrica. Già persi 200 dipendenti. Ora cosa accadrà? È un virgolettato. Vi leggo il lancio. Due anni fa è toccato a Gucci. Ora il turno di Dior. Ne giro di tre anni. Saffilo perderà quasi il 40% della sua produzione. Un dato che fa capire la pesante portata di questi addi per il fatturato dello storico gruppo produttore di occhiali. Fa capire anche la grande preoccupazione dei sindacati di categoria per le ricadute sul lavoro e sul migliaio di dipendenti dello stabilimento longaronese. Tra il 2021 e il 2024 andranno a scadenza anche altri marchi pesanti del portafoglio di Saffilo come Givenchy, Marc Jacobs e Fendi. L'articolo di Paola Dallanesi a pagina 14. La foto centrale. Le acrobazie dei baby motociclisti al campus del freestyler Botteon è in prima pagina e merita perché è allegra e divertente. Le altre notizie più o meno le abbiamo presentate anche dagli altri giornali. Con questo quindi mi fermo qui. Vi invito a seguirci su Radio Piave e sui nostri social dell'Amico del Popolo a cominciare dal sito www.amicodelpopolo.it poi facebook e anche youtube. Ciao a tutti. Grazie e buona giornata.